Ciao a tutti, sono Luca, siamo alla Musica, bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di un prodotto molto utile, della Audio Design, un sistema di radio-microfono USB. Ed eccoci qua. Allora, purtroppo questi momenti ci costringono a vivere in una condizione sociale un po' restrittiva e quindi cambia il nostro modo di lavorare, cambia il nostro modo di comunicare, cambia il nostro modo di rapportarci anche alla tecnologia. Quindi cambiano anche le nostre necessità. Siamo sempre di più in smart working, siamo sempre di più in DAD, siamo quindi nella necessità di fare lezioni a distanza e di poter raggiungere le persone in maniera digitale. Non sempre quindi riusciamo a comunicare nel modo migliore o qualitativamente giusto o quantomeno sufficiente. Per questo si rendono utili prodotti di questo tipo. Oggi vi presento questo sistema della Audio Design Pro, ditta italiana, che si chiama PMU USB 1.1, è il sistema 1.1. Che cos'è? È un radio-microfono che è compreso di questo bodypack, la valier, che è quello che sto usando io in questo momento, e questo archetto. Quindi abbiamo due microfoni in dotazione da poter scegliere. Ovviamente il trasmettitore trasmette in UHF, è auto-impostato, ha un ricevitore USB autoconfigurante, che funziona sia per sistemi Windows che per sistemi Apple, quindi OS X. È tutto molto semplice, si è autoconfigurante, si mette direttamente il ricevitore nella USB, e il gioco è fatto. Non bisogna fare niente, è molto plug and play, diciamo. Quali sono i campi in cui si può utilizzare questo prodotto? Ovviamente, didattica a distanza. Se vogliamo, se siamo degli insegnanti, vogliamo raggiungere con una certa qualità audio i nostri alunni, possiamo farlo con il minimo sforzo e la massima resa, e soprattutto non avendo una spesa eccessiva. Oppure mi viene in mente, se siamo all'interno di una scuola, ma ogni insegnante vuole usare il suo microfono senza cambiare sistema di trasmissione, possiamo semplicemente comprare un unico sistema di trasmissione e ogni insegnante avrà poi la possibilità di comprarsi un singolo archetto o un singolo lavallier. Quindi questa è un'altra cosa utile e a basso costo. Voglio creare contenuti? Sono uno youtuber oppure sono un creatore proprio di contenuti web. Un microfono del genere mi serve ad aumentare la mia qualità, perché usando il microfono integrato all'interno del computer la qualità è veramente scarsa, insomma non è sufficiente a garantire un ascolto dignitoso. Oppure un altro utilizzo è quello per le lezioni di canto. Anziché usare un microfono condensatore oppure un microfono dinamico all'interno di una scheda audio e creare poi dopo tutta una serie di routing, con questo io posso andare direttamente all'interno del programma che uso per poter fare didattica a distanza e impostare la sorgente di input, il mio microfono, e la sorgente di output invece le casse o le cuffiette integrate nel computer. Quindi una minima impostazione all'interno delle preferenze del programma che uso per poter subito essere attivo e avere subito una qualità microfonica dignitosa. A proposito di qualità microfonica facciamo un test comparativo con e senza microfono. Fino a questo momento avete ascoltato la mia voce con il microfono Lavalier. Adesso, grazie alla postproduzione che farò di questo video, farò un test con il microfono integrato nel computer. Prova, uno, due, tre, prova, uno, due, tre. Come avete fatto caso la qualità è notevolmente migliore. Un suono più definito e molto più aggraziato nelle sue frequenze. Nel body pack ci sono anche due tasti che possono aumentare o abbassare il livello di guadagno della capsula microfonica. Quindi se ho un segnale troppo alto lo posso andare ad abbassare o se ho un segnale da aumentare lo posso dare a alzare con questi due pulsanti. Insomma, cosa c'è da dire? Un prodotto economico assolutamente valido, alla portata di tutti, sia le persone che hanno un minimo di conoscenza informatica, un minimo di conoscenza audio, sia per tutte quelle persone che invece ne hanno un pochino di conoscenza avanzata per poter creare i propri segnali di input e output in ritorno dal programma che usano o dalla piccola DO che intendono utilizzare. Perché in qualche modo ce lo possiamo anche un po' inventare, non è così utile, non è che è stato creato con quell'intenzione, ma possiamo anche registrare la nostra voce su una base, per esempio utilizzando un programma come Logic piuttosto che Studio One, piuttosto che Fruity Loops o altri programmi che sono gratuiti e che si trovano in rete. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che vi sia stato utile questo video e questa comparazione microfonica. Vi aspetto sul nostro canale, vi ricordo di seguire i nostri canali social, mettere like al video e seguirci sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti e al prossimo video! Grazie a tutti!